ciao a tutti e bentornati all'ascolto di pillole di bit questa è la puntata 196 versione estiva e io sono come sempre francesco prima di iniziare ancora una nota importante ho fatto un po di cambiamenti nei feed se siete iscritti direttamente da spreaker vi conviene cambiare passando al feed diretto sul sito o passando da apple o da google se mi ascoltate da spotify dovrebbe tornare tutto nel mare nel giro di qualche settimana almeno spero se notate stranezze per cortesia fatemelo sapere l'importante è che non passate più da spreaker li resteranno solo le ultime cinque puntate più recenti e basta agosto caldo magari siete in vacanza queste cinque puntate estive saranno monotematiche brevi e perfette per essere ascoltate in pieno relax vi parlo delle stampanti più precisamente di alcuni tipi di stampa da quelle più antiche a quelle più moderne con la stampante a getto d'inchiostro il mondo della stampa è cambiato ma proprio tanto tanto le stampanti hanno abbattuto il problema del rumore in quanto le goccine d'inchiostro che atterrano sul foglio non fanno più il rumore dell'impatto delle testine ad aghi abbiamo perso la possibilità di fare con una sola passata più di una copia non avendo più l'impatto e quindi non possiamo più usare i vari fogli copiativi o la copia carbone abbiamo guadagnato la possibilità di fare stampe a colori belle e col tempo di arrivare a qualità e risoluzioni davvero elevatissime in competizione con la stampa fotografica ci siamo accorti che stampare costa carissimo talmente caro che a volte finita la cartuccia dell'inchiostro è più conveniente cambiare la stampante che comprare una nuova cartuccia questa cosa fa schifo bisogna dirlo bene ma come funziona la stampante a getto d'inchiostro riprendiamo la stampante ad aghi una testina che corre da un lato all'altro del foglio muovendosi su una cinghia dentata pilotata da due pulegge una delle quali è collegata a un motore passo passo che sa esattamente dove sta la testina in ogni momento questa cosa è uguale tra le due stampanti idem il caricamento del foglio che viene preso da un cassetto e fatto passare su un rullo qui la cosa cambia leggermente sulla stampante ad aghi solitamente la stampa avviene quando il foglio è in posizione verticale sulle stampanti a getto d'inchiostro nella maggior parte di esse la stampa avviene sul foglio quando questo è in posizione orizzontale la testina di stampa è composta da moltissimi fori piccolissimi del diametro quasi come un capello in base alle tecnologie delle stampanti alcune basate sul calore altre su sistemi piezo elettrici vengono generate delle piccolissime gocce d'inchiostro che sono perdonate il termine ma rende l'idea sputate fuori dagli ugelli in modo che si vadano a depositare sul foglio in modo molto preciso sia come dimensione che come posizione gli ugelli sono disposti in verticale sulla testina un po come gli aghi della stampante ad aghi in questo modo per ogni passata sul foglio non viene stampata una sola riga ma una striscia la stampa a colori viene fatta combinando da un minimo di tre a un massimo di otto colori se nei monitor come abbiamo visto nella lontanissima puntata 23 sul monitor lcd la resa cromatica è fatta con i colori rosso verde e blu nella stampanti è diverso servono i colori ciano magenta e giallo questo perché il monitor emette la luce mentre sulla carta stampata noi vediamo la luce riflessa dalla carta la stessa cosa la fate se disegnate con i con i pennelli vi basta avere i tre colori primari di nuovo il ciano il magenta e il giallo oltre al al nero e al bianco per ottenere tutta la tavolozza dei colori questo sistema è chiamato cm yk e cian magenta yellow black la k è l'ultima lettera di black per avere stampe di qualità molto elevata la compita combinazione di colori può essere fatta con più di tre colori rendendo il costo di un foglio a 4 stampato in questo modo molto molto caro le cartucce a colori a seconda delle stampanti possono essere del colore singolo o una cartuccia sola con i i tre colori all'interno della stessa in questo caso ovviamente se uno dei tre finisce va cambiata tutta la cartuccia con l'avvento delle stampanti a getto d'inchiostro è cambiata anche la tecnologia di connessione al computer si è passati dalla porta parallela alla usb oggi persino alla rete wifi una cosa non è cambiata anzi due i drivers e la connessione alla stampante sono sempre una maledizione per chi gestisce i computer c'è sempre qualcosa che non va nelle stampanti a getto d'inchiostro fotografiche fa una grossa parte anche la carta anch'essa molto costosa vendono quella speciale lucida fatta apposta per migliorare la resa dei colori e la tenuta nel tempo trascerò la triste storia della guerra che i produttori di stampanti fanno per cercare di evitare che i clienti possano comprare l'inchiostro sul mercato parallelo perché in effetti più che triste fa anche questa proprio scrifo esco ecco l'ho detto la qualità delle stampanti a getto d'inchiostro si misura oltre che nella resa cromatica data dalla qualità del pigmento dell'inchiostro e dalla resa sulla carta dalla quantità di punti che la stampante riesce a far stare sul foglio si esprime in punti per pollice abbreviato in dpi dot per inch ovviamente se ho un'immagine che ha una risoluzione di 200 dpi e la voglio stampare con una stampante a 400 dpi capirete anche voi che la cosa ha poco senso a meno che non la voglia stampare riducendo le dimensioni e avvicinando tra di loro i singoli punti non posso aumentare la risoluzione di un'immagine solo perché ho una stampante che stampa più più punti per singolo pollice se la sorgente ha una bassa risoluzione la stampa avrà una bassa risoluzione pillole di beat esce tutti lunedì su tutte le piattaforme di diffusione podcast è sempre disponibile la discussione sui canali digitali che trovate sul sito pillole di beat col punto prima dell'it il podcast non ha pubblicità di alcun tipo è sostenuto solo dalle donazioni degli ascoltatori sul sito ci sono tutte le modalità per donare qualunque modalità scegliate io ve ne sarò sinceramente è immensamente grato grazie perché da una 5 euro o più arrivano gli adesivi ricordate che mi dovete mandare l'indirizzo se pillole di beat vi vi piace ditelo ad amici colleghi e parenti avere nuovi ascoltatori è una bella cosa sempre per due quanti altri podcast li trovate tutti su extra punto pillole di beat col punto prima dell'it se vi serve una consulenza tecnica informatica fatturata la trovate su il tucci punto com slash consulenza il sito pillole di beat è in hosting presso third eye un hosting serio ve lo consiglio il montaggio audio è fatto con producer per mac di alex raccoglia e senza di lui non potrei fare tutte queste puntate i tip tornano a settembre sono in vacanza anche loro anche per oggi la puntata è finita a risentirci lunedì prossimo ciao